La costruzione di un futuro aeroporto a Sibari non può precludere la realizzazione di una metropolitana leggera. Questo è in sintesi quanto emerso nell'ultimo laboratorio politico-culturale Officina Ionio Italia, promosso da Fratelli d'Italia Rossano, aperto a tutte le forze politiche. Questa zona è fortemente penalizzata sul piano dei trasporti, la lunga scia di soppressione di treni a lunga percorrenza la sta isolando sempre di più e bisogna guardarsi intorno. L'aeroporto di Crotone, se fosse collegato da subito con bus a navette e a medio periodo con un investimento di metropolitana leggera, potrebbe offrire un valido sostegno al sistema dei trasporti. Noi siamo convinti di questo sistema dei trasporti e siamo convinti che ci dobbiamo avvicinare sempre di più alla vicina Crotone, non tanto perché si chiama Crotone, ma perché c'è questo aeroporto dove attualmente arriva Ryanair che in qualche modo possiamo utilizzarlo e dobbiamo sfruttarlo. L'unico problema nostro è che non ci sono i mezzi e abbiamo una viabilità che tutti conosciamo. Allora abbiamo proposto dall'inizio un progetto di metropolitana leggera, che non deve servire solo ai turisti, ma deve servire all'intera fascia ionica da Sibari a Crotone, anche per i pendolari che quotidianamente utilizzano questi pochi treni che sono rimasti. Ormai una rete ferroviaria in dismissione non ha più motivo di esistere perché i treni a lunga percorrenza sono stati soppressi, almeno approfittiamo di avere un servizio locale, un servizio che almeno funzioni. Qualcuno ha voluto registrare l'abbandono del progetto aeroporto di Sibari perché è quasi un'utopia? No, noi non abbiamo parlato di abbandono di progetto dell'aeroporto di Sibari, noi abbiamo detto che non può precludere la realizzazione dell'aeroporto di Sibari un'eventuale realizzazione di una metropolitana leggera e abbiamo fatto anche un distinguo, abbiamo detto di problematiche che vanno risolte a medio, a breve e a lungo termine. Quando parliamo di breve possiamo pensare, nel caso dei collegamenti con l'aeroporto, a dei bus navetta come esiste dappertutto in tutte le parti del mondo. Se parliamo di un intervento a media possiamo parlare della metropolitana leggera e che benvenga un domani questo aeroporto della Sibarita, del quale purtroppo ormai sono più di 30 anni che ne stiamo sentendo parlare, anche se ne sentiamo parlare concretamente perché abbiamo visto la provincia di Cosenza nel recente passato dire di aver trovato 20 milioni di euro per la realizzazione, cosa che non è mai accaduta. Subito dopo la regione Calabria ha rilanciato quasi come se giocassero a poker, ha in qualche modo trovato 30 milioni di euro per realizzare l'aeroporto ma anche la regione non ha fatto niente. Se noi pensiamo a sommare 30 milioni la regione e 20 milioni la provincia di Cosenza, con 50 milioni probabilmente si potrebbe fare un aeroporto internazionale. Fatto sta che ancora non abbiamo realizzato uno scalo locale.